Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono fondi che non erano nella piena disponibilità della Presidenza del Consiglio varati dal governo Berlusconi poco prima della sua fine naturale e mai tolti dal governo di centrosinistra seguente. Che cosa ci dici su questo modo di gestire i fondi in Italia? Ti dico che hai dato una notizia a me e a tutti i partecipanti a questo incontro, che io non lo sapevo, che se continuano a buttare i fondi per la ricerca su altre cose è evidente che la ricerca resterà al palo e continueremo a esportare ricercatori all'estero e a importare delinquenti, che è un'attività che ci riesce benissimo. Grazie. 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 Grazie.